Il sogno di Clara, la battaglia dei topi, il viaggio fantastico della favola natalizia di Tchaikovsky, il principe schiaccianoci sul palco del teatro Socrate di Castellana Grotte. Lo spettacolo di Freddy Franzutti, coreografo dei più apprezzati nel panorama nazionale, coniuga con successo le scene originarie dei primi coreografi con un impianto drammaturgico nuovo ispirato al mondo gotico del regista Tim Burton. I bellissimi temi musicali che si animano con le scene di festa sotto l'albero di Natale fanno del balletto uno di quelli tradizionalmente più amati dal pubblico anche molto giovane e quello del sud-est barese non ha fatto eccezione. Religioso silenzio in sala per il waltzer dei fiocchi di neve, il romantico waltzer dei fiori e le danze dei diversi paesi del mondo. Trucchi scenografici, scene ad alta trasformazione di ampio respiro e danzatori di qualità, i ballerini salentini del balletto del sud Alessandro De Ceglie e il principe schiaccianoci Vittoria Pellegrino nel ruolo di Clara e Francesco Cafforio in quello di Drosselmeier, che non hanno nulla da invidiare alle edizioni firmate del nord Europa e dell'est che tradizionalmente importiamo.